Ben ritrovate tutte e ben ritrovati tutti a Funambole Radiattive. Quest'oggi iniziamo una serie molto speciale perché parleremo della Casa Spiazza. Di che si tratta? Si tratta di una manifestazione culturale con performance teatrali, con seminari, che la Casa Internazionale delle Donne inaugurerà il 25 marzo e durerà una settimana. A commentarle e a spiegarcela è con noi Maria Luisa Celani, che è la direttrice artistica della Casa Spiazza quest'anno e che è anche una componente del direttivo della Casa Internazionale delle Donne. La Casa Spiazza viene da lontano perché la storia è lunga, Maria Luisa, ce la racconti un po'? Certo, esatto. Innanzitutto ciao Loretta, grazie dell'invito, ciao a tutte. Sì, la Casa Spiazza è una manifestazione che nasce nel 2015 e nasce come contenitore di attività culturali nel periodo estivo. Quest'anno pensavamo, perché noi abbiamo partecipato, diciamo, riceve il contributo della Regione Lazio, della Casa Spiazza ed era, si doveva ripetere allo stesso modo nel periodo estivo. Causa Covid, rimandi vari, ci siamo trovate di fronte a dover rimodulare questa attività. E quindi nel rimodulare questa attività abbiamo interagito e abbiamo coinvolto diverse forze, anche all'interno della casa e all'esterno della casa, come le Funambole e come Lea Melandri. Da lì è nata l'idea di creare questo doppio appuntamento, un appuntamento di seminari con Lea Melandri, che si svolgeranno il 25 e il 26 a numero chiuso e se volete partecipare dovete iscrivervi. Quindi tutte le indicazioni sono sulla pagina Facebook e da domani sul sito nuovo della casa. E in più con una serie di incontri, con un progetto che si chiama Dalle case alla casa, dove volevamo raccontare un po' quello che accade alle donne e quindi raccontare le loro esperienze sia in tempo di Covid e le loro speranze anche. E siamo andate ad intervistare sette donne, sette donne che provengono da professioni differenti e a queste sette donne sono state legate i sette monologhi. Per cui saranno dei video che saranno online a partire dal 25 fino al 31 marzo. Come lancio, poi li ritroveremo sempre presenti. Ecco, mi interessa fermarmi un attimo sul concetto di spiazza, perché inizialmente era stato appunto concepito un po' per l'effetto sorpresa della grande ricchezza che la produzione culturale delle donne offre in tutti i momenti. E c'è anche naturalmente a una piazza, riferimento a una piazza come Agorà, e ci si riferisce al cortile della casa, che è un luogo accoglientissimo, su cui sovrasta una magnolia bellissima, in cui le donne nel corso delle estate precedenti si sono potute incontrare e godere anche di grandi performance. Ora naturalmente siete spiazzate dal Covid pure voi, quindi ci potete scrivere un po' meglio il passaggio da questo evento in presenza con centinaia di persone che si rincontravano alla casa per tutta la durata dell'evento, e adesso questa lontananza imposta bidimensionale, come l'avete gestita? Eh certo, non è stato, guarda, non è stato facile. Poi a maggior ragione, cioè io mi occupo come professione di eventi culturali, quindi già ci ero passata per altre cose che ho organizzato io. Non è stato facile, ma abbiamo pensato proprio di scavalcare questa mancanza di corpi, questa mancanza di corpi scavalcandola appunto entrando dentro le case. Cioè al contrario, non sono le persone che entrano dentro la nostra casa, ma siamo noi che andiamo nelle case delle persone per raccontare le storie delle donne. Quindi questo è stato, tentando di, questa è stata un po' la chiave, la chiave di, diciamo, per azzerare quella distanza che c'è oggi, dove non ci possiamo incontrare nel giardino della Magnolia per organizzare gli eventi, ma dove rimaniamo appunto davanti ad uno schermo. E' rientrare nelle case e raccontare le storie. Quindi è una narrazione diversa, è una narrazione che si basa sulle storie, sulle storie personali che poi possono essere specchio di tante altre storie, no? Sono un esempio e sono... siamo partite da lì fondamentalmente. E poi siamo partite anche... ci siamo anche rese conto di una cosa, che è stata una bellissima esperienza e sta in corso tuttora, perché c'è stato il coinvolgimento di tante donne per realizzare la Casa Spiazza. Sia donne interne alla casa, quindi l'esperienza delle funambole, la costruzione di un'immagine attraverso forma liquida, Loredana Monaco, cioè... ma anche attraverso appunto l'integrazione di donne che non sono all'interno del consorzio, ma sono donne esterne alla casa. Le interviste, l'operatrice, chi si è occupata di... l'assistente alla produzione. Insomma, è stata veramente un'esperienza corale, sempre nel rispetto del decreto DPCM, del DPCM anti-Covid, però un'esperienza corale. Ecco, poi nel corso delle trasmissioni successive intervisteremo le attrici, le protagoniste, le amelandri di tutta questa bella iniziativa, che ha, però mi preme sottolinearlo, una grandissima valenza politica, anche da un altro punto di vista, e cioè il fatto che la Casa Internazionale delle Donne sia rimasta attiva e operativa nel corso di tutta la pandemia, che si è dovuta reinventare, ma ha continuato ad offrire eventi, servizi, scambi di natura politica e culturale, è particolarmente importante, è una valenza particolarmente significativa in questo momento, perché sappiamo che proprio la settimana scorsa la Casa Internazionale delle Donne si è presentata in Campidoglio per protestare contro una nuova mossa dell'amministrazione Raggi che vorrebbe trasformare la casa in qualcosa che non è mai stata in questi trent'anni, o che è stata in parte in questi trent'anni. Ci puoi un po' parlare di questa situazione e quali sono i possibili sviluppi? Certo, guarda, la cosa che hai detto è giustissima, cioè questo periodo Covid che ci ha chiuse, la casa ha dimostrato di essere molto presente e viva, anzi è stata anche una spinta verso percorsi nuovi. Maginifici! Esatto, ma non a caso, cioè ti porto questo esempio, durante il primo lockdown la casa ha iniziato già ad essere presente da subito con due progetti, da una parte le parole per dirlo, sono stati raccolti tutti gli iscritti delle donne, delle attiviste, delle giornaliste, delle scrittrici, e li abbiamo raccolti tutti per rendere i pubblici in un unico contesto, per avere la possibilità di leggerli. E poi un'altra iniziativa in video, dove abbiamo dato la possibilità sempre a tante donne di raccontarsi proprio in quel primo lockdown. Fra l'altro questi due progetti sono sempre visibili, sia sul canale YouTube che sul sito della casa. E poi c'è stato il grande, la presenza della casa come servizi, perché le associazioni all'interno della casa hanno continuato a dare i servizi. Lo sportello sociale, che è un fiore all'occhiello della casa, è stato un fiore all'occhiello e vorrà continuare ad essere un punto di riferimento per tante donne. E poi la Magnolia. La Magnolia è stato un percorso, si è avviato un percorso politico, di confronto politico con tutte le donne, tutte le femministe, da Milano all'ultimo paesino della Sicilia o della Sardegna. Cioè c'è stata una pluralità di consensi intorno alla Magnolia, un percorso che è iniziato da maggio, da giugno scusami, e sta ancora proseguendo, che ha portato alla realizzazione di un documento che vuole appuntato l'attenzione sul Recovery Fund, Next Generation U, che sappiamo. Quindi secondo me la casa è molto attiva, è stata molto attiva in questo periodo e questo periodo le ha dato l'opportunità anche di prendere un percorso e di essere anche un punto di riferimento per tante donne e di trainare dietro anche tutti i luoghi delle donne, di essere un punto di riferimento anche per gli altri luoghi delle donne, non solo per le singole femministe. Questo è stato molto importante. Quello che è accaduto e che hai giustamente evidenziato tu con la nostra conferenza, con la conferenza della casa in Campidoglio dell'11 marzo, è stato un attacco non indifferente delle assessore del Comune di Roma alla casa e hanno, diciamo, è palese l'idea di non riconoscere alla casa il valore politico, sociale, culturale che rappresenta. quindi siamo, come si suol dire, siamo molto attenti e abbiamo bisogno del consenso di tutte e della vicinanza di tutte, come sta accadendo. È visto, no, Loretta, quante adesioni trasversali e di pluralità, no, differente, abbiamo intorno a noi, perché la casa è di tutte. la casa non è solo del consorzio, ma la casa è di tutte. è una ricchezza. Il consorzio sono comunque trentadue associazioni. E sono trentadue associazioni, ma non finiamo là. La casa è veramente la casa di tutte. Quindi sarà un percorso difficile, ma siamo lì e faremo battaglia. E allora è proprio il caso di dirlo prossimamente su questi schermi, sia artistici che politici. Ti ringrazio infinitamente, Maria Quintana. Grazie a te, Loretta. Grazie a te. Ciao. Grazie. Ciao.